Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento dove cercherò di raccontarvi chi sono i protagonisti del prossimo cinecomic in uscita e intanto vi consiglio anche qualche storia, qualche lettura per conoscerli anche dal punto di vista fumettistico. Vi do il benvenuto sul mio canale e il benvenuto anche in questo nuovo video. Oggi parleremo degli X-Men. Sta per uscire X-Men Dark Phoenix, praticamente l'ultimo film dei mutanti all'interno dell'universo Fox, poi passeranno al grande Marvel Cinematic Universe e io all'ultimo film vi propongo proprio questa sorta di guida su X-Men e più in generale il mondo dei mutanti. Chi sono i mutanti all'interno dell'universo Marvel? Sono una nuova, possiamo dire, razza. Sono la razza successiva all'Homo Sapiens, si chiamano Homo Superior e sono degli esseri che fin dalla nascita, siccome possiedono questo tale gene X, hanno dei poteri. Fin dalla nascita, non sono come i normali supereroi che li acquisiscono durante il corso della loro vita. Loro ci nascono già. Possono avere mutazioni e quindi anche superpoteri di qualsiasi tipo, utili, non utili, più o meno forti, svariegate. Telecinesi, poteri mentali, superforza, mutazioni fisiche, poteri animaleschi, qualsiasi cosa va bene. Infatti il mondo degli X-Men e dei mutanti, scusate, in generale è molto variegato. Ci sono tantissimi supereroi e tantissimi personaggi che hanno i poteri più disparati e in ogni momento ne spuntano di nuovi, senza bisogno di una particolare introduzione, di una particolare origine, in quanto nascono proprio con questi poteri. Ma chi sono gli X-Men? Gli X-Men sono stati creati da Shark Savior, uno dei più potenti mutanti con poteri mentali, diciamo, che purtroppo è costretto su una sedia a rotelle. Ha creato questa scuola che praticamente cerca di proteggere i mutanti insegnandogli a controllare i loro poteri e ha creato questa squadra all'interno di questa scuola che si chiamano proprio gli X-Men, che sono dei mutanti che svolgono il lavoro dei supereroi, cercando di sventare minacce e proteggendo la loro razza, ma anche ovviamente gli esseri umani, il mondo e anche l'universo a volte in generale. All'interno della squadra di X-Men troviamo tantissimi nomi che probabilmente conoscerete già. Ciclope, che spara dei raggi dagli occhi, Jean Grey, che ha il potere appunto della Fenice, telecinesi e in generale poteri mentali, lo stesso Wolverine. Importanti molto spesso sono anche, diciamo, i mutanti cattivi, quelli che stanno dall'altra parte, i villain, ad esempio Magneto, che controlla i metalli, anche lui uno dei mutanti più forti, Mystica, che è capace di prendere la forma di qualsiasi persona. Sono molto importanti perché negli X-Men, scusate, mi sbaglio sempre, nei mutanti in generale, si creano varie fazioni. I mutanti sono un ottimo parallelismo per il tema del razzismo e questo infatti li rende degli ottimi personaggi e le loro storie sono logicamente fantastiche, ma anche molto realistiche, molto plausibili. Ti fanno veramente riflettere tanto sul mondo reale. Gli umani hanno paura dei mutanti, quindi più volte cercano di discriminarli e i mutanti si devono in qualche modo proteggere. C'è chi lo fa seguendo il metodo di Chark Savier, ovvero con la pace, e chi invece vorrebbe dare guerra agli umani per salvare la propria razza, come ad esempio Magneto. Il mondo dei mutanti è vastissimo, dovrei fare un video a parte per approfondire. È enorme, ci sono stati tantissimi cambiamenti nel corso delle varie formazioni di X-Men. Alla razza mutante sono successe tantissime cose, sono molto importanti all'interno dell'intero universo Marvel perché partecipano sempre ai grandi eventi e molto spesso sono i veri protagonisti. Dovrei consigliarvi mille storie. Oggi cerco di consigliarvene 5 o 6, non mi ricordo quante sono, per conoscerli, leggere quelle che sono le storie più belle adatte magari anche per capire il film e farvi un'idea un po' generale su questi personaggi. Come sempre vi metterò tutte le copertine per capire bene che raccolta dovete comprare. Vi metterò ovviamente i titoli e i link di Amazon in descrizione. Trovate anche una sezione dove ci sono siti che ho chiamato siti utili, dove potete trovare vari siti per acquistare fumetti che non siano Amazon e altri siti che vi possono essere utili appunto. Dopo le 6 storie che vi vado ad elencare ho elencato tante altre storie che sono magari un po' più difficili da reperire o comunque che sono già più approfondite. Quindi magari ci dedicherò un video proprio sulle migliori storie degli X-Men. Per ora ve le elenco lì e se volete appunto approfondire un po' di più. In quella sezione trovate tutti i dettagli per poter acquistare anche quelle letture. Cercherò magari di realizzare anche degli approfondimenti per i vari personaggi perché poi ogni personaggio degli X-Men ha comunque tante storie a lui dedicate e ha un passato enorme da esplorare. Partiamo sempre dal consiglio che faccio ogni volta. Vi consiglio di leggere Noi siamo gli X-Men. Una raccolta di varie storie di diversi periodi storie abbastanza cruciali ed importanti sugli X-Men ovviamente pubblicata dalla Panini Comic. Come sempre fate con questo avete tre cose. Le origini degli X-Men e anche a volte dei singoli comprimari. Avete una panoramica sull'evoluzione anche editoriale negli anni di questi personaggi e riuscirete a conoscere il mondo fumettistico dei mutanti degli X-Men e le sue regole. Visto che il film racconterà effettivamente di come Jean Grey otterrà i poteri di quella che è la Fenice Nera probabilmente uno degli esseri più malvagi e forti dell'intero universo della Marvel voglio proporvi una storia del 1980 ad opera di Chris Claremont che è appunto la saga di Fenice Nera. Una delle migliori storie dei X-Men dove verrà proprio sfrigionato il potere della Fenice Nera rinchiusa all'interno del personaggio di Jean Grey. Ottima storia per conoscere anche comunque i personaggi per conoscere il rapporto di questa supereroina con il suo amato Ciclope una storia dove male bene si confondono ovviamente in una maniera profondissima non posso non consigliarvela ed è la più indicata per poi capire anche il film. Su Amazon trovate un omnibus molto grande dove è contenuta proprio tutta la saga ci sono poi altre due raccolte che la riassumono un pochettino che comunque vanno bene che però non si trovano su Amazon si trovano su altri siti vi lascio i nomi in descrizione in una piccola nota e le copertine qua così magari riuscite a trovarli se no accontentatevi dell'omnibus che comunque è una validissima lettura anzi è più approfondita non posso poi non consigliarvi House of M una delle saghe uno degli eventi più importanti degli X-Men forse il più importante il più tragico cruciale non voglio dirvi veramente niente non voglio spoilerarvi niente è una storia del 2005 che racconta di come gli X-Men arrivano veramente quasi sull'orlo delle estinzioni spiega come l'odio verso di loro è arrivato quasi a provocare un loro auto annientamento non voglio continuare leggetela perché qua tutti i personaggi degli X-Men soprattutto Scarlet Witch Magneto Wolverine e tanti altri sono molto protagonisti per me è la migliore storia sugli X-Men è veramente uno degli eventi più entusiasmanti dell'intero universo Marvel guardate se su Amazon è disponibile dovrebbe esserlo spero a volte vedo che scompare e rimane solo il formato in ebook in tutti i casi cercatela perché la trovate in qualsiasi sito e in qualsiasi fumetteria Brian Michael Bendis qua si dimostra ancora una volta uno dei migliori scrittori della Marvel subito dopo la saga di Fenice Nera arriva giorni di un futuro passato che la cui storia è stata usata per realizzare il film che è uscito un po' di anni fa ad opera di Bryan Singer per me uno dei migliori cinecomic e anche la storia sempre ad opera di Chris Claremont scusate è una delle migliori sugli X-Men devono tornare indietro nel tempo per salvare il loro futuro dove sono ancora una volta annientati dalla stessa razza umana anche qua non voglio dirvi niente sarà molto importante perché andrà a scavare nel passato degli X-Men è un'auto introspezione che fanno gli X-Men confrontando il loro presente con il loro passato la loro versione giovane è ancora piena di speranze dalla loro versione arrivata ormai quasi alla fine infine vi consiglio una raccolta diciamo del 2004 ad opera di Joss Whedon sì il regista di Avengers che ci dimostra di conoscere anche bene gli X-Men con il suo ciclo su X-Men che viene raccolto per quanto riguarda i primi numeri nella storia intitolata Inarrestabili la dovreste trovare facilmente su Amazon una versione dovrebbe essere già disponibile c'è un'altra che sta uscendo io vi metto i link di tutte e due decidete voi quale prendere quella che ovviamente è disponibile fate voi questo vento dà aria fresca agli X-Men cercando un po' di fare un punto della situazione dopo tutti gli incredibili eventi che hanno subito in passato Joss Whedon riesce a rilanciare gli X-Men proponendoli in forse uno dei loro migliori momenti di splendore c'è il discorso della cura sui mutanti che viene anche ripreso in X-Men 3 conflitto finale ve la consiglio perché per me anche questa è una delle migliori storie di questi personaggi e qua veramente il loro potenziale viene colto al massimo da Whedon io direi di concludere qua per non dilungarmi troppo ripeto per i più esperti e per chi volesse poi approfondire lascio altre letture e cercherò di realizzare una guida proprio alle migliori storie in generale degli X-Men dove ve ne elencherò molte di più ce ne sono tante questo era un video più che altro dedicato per chi vuole conoscere i personaggi vuole leggere qualcosa e per capire anche un po' meglio il film per capire su cosa si è basato vi ringrazio per l'attenzione se vi va consigliate qualche lettura chiedete spiegazioni non vi fate problemi assolutamente vi aspetto nei commenti vi invito anche ad andare a vedere tutti i vari link dei social facebook instagram e telegram se vi va di seguirmi anche lì ci vediamo alla prossima ciao a tutti vi aspetto ovviamente alla recensione del film vi aspetto